Le trame spagnole del segreto ci svelano, che ci sarà un triplice abbandono nel cast della sua popera eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su il segreto. La sua popera, che ha appena annunciato i colpi di scena, che avverranno nel 2018. Gli ultimi spoiler ci svelano, che Puente Viejo sarà teatro di un triplice abbandono, che siamo sicuri lascerà schiazzati i fans della telenovela iberica. Anticipazioni e il segreto, l'uscita di scena dei Dos Casas. Le anticipazioni delle puntate del segreto trasmesse nella penisola iberica, ci svelano, che Adela e Gracia si richeranno ad augurare buon viaggio a Giulietta, dopo la sua decisione di lasciare Puente Viejo per una nuova destinazione. Intanto il vecchio locandiere consiglierà a Saul di non lasciarsi scappare la donna della sua vita. Dagli ultimi spoiler si evince, che Nicola Sortuno deciderà di pagare i biglietti per la cecoslovacchia per tutti i componenti della famiglia Dos Casas. Inoltre Ernando e Camila saluteranno don Anselmo ringraziandolo per essere stato loro vicino durante la permanenza a Puente Viejo. Possiamo anticipare che Mauricio confesserà a Francesca di essere responsabile del naufragio del matrimonio con Nazaria, infine Camila si richerà alla locanda per salutare i suoi migliori amici, tra cui Nicola. Il segreto a trame Spagna, la famiglia Dos Casas lascia Puente Viejo. Dalle trame delle puntate iberiche del secreto de Puente Viejo si apprende che i Dos Casas lasceranno a Gracia i soldi per pagare i laboratori della profumeria, mentre Severo si rifiuterà di abbandonare Puente Viejo insieme a Candela. Come anticipato, la moglie del Santa Cruz giungerà a Puente Viejo insieme a Carmelito per suggerirgli di cambiare area, in quanto teme possibili ritorsioni da parte di Francesca. Dalle ultime novità si apprende che il latifondista e la pasticcere entreranno in profonda crisi, mentre Beatriz Dos Casas giurerà di riprendersi Matias una volta tornata a Puente Viejo. Possiamo anticipare che Hernando, Camila e Beatriz saluteranno per sempre Puente Viejo gettandosi il passato alle spalle, mentre Saul giungerà alla stazione dei bus prima che Consuelo e Julieta prendano l'autobus verso una nuova destinazione. Infine Saul supplicherà l'amata di ritornare sui suoi passi, dandole perfino un bacio. Per leggere le nuove anticipazioni del Segreto, che arriveranno direttamente dalla Spagna, vi basterà cliccare sul tasto Segui, sotto al video e d'accanto al nome dell'autore.